Ecco, a Piazza del Campidoglio ci ha raggiunto Fabio Zavattaro, per anni vaticanista del Tg1 e quindi collega di David Sassoli. Buonasera Fabio. Buonasera a voi. Ecco, che ricordo rimane oggi di Sassoli come collega, come politico, ma soprattutto come amico e come persona? Essenzialmente è un ricordo di una persona con la quale si lavorava veramente bene. Era rigoroso, puntuale, attento, ma soprattutto è un termine che forse oggi non si usa più tanto, ma era un galantuomo. Cioè potevi discutere, potevi ragionare con lui, potevi anche essere non d'accordo con le sue posizioni, lui ti ascoltava. Questa è una cosa molto importante. Vi univa la comune matrice cattolica, questo è stato un collante forte? Questo è sempre un collante forte, perché comunque hai una base sulla quale puoi ragionare. Ed è una matrice che ti consente di ascoltare l'altro. Ed è molto importante, non soltanto l'altro come persona, ma anche l'altro dal punto di vista religioso. Infatti avevamo la possibilità, noi che facevamo Vaticano, di avere molto spazio anche per il dialogo ecumenico, dialogo interreligioso. E questo è proprio dovuto a questa matrice che ti consente di ascoltare gli altri. Grazie per questa testimonianza. Dal Campidoglio la Lina può tornare allo studio.